Noi partiremo con una campagna molto importante che si chiama Bronze Allure, moi je vis en rose. Je vis en rose sia perché noi abbiamo la maggior parte dei gioielli in rosa, la maggior parte dei dipendenti in rosa e il je vis en rose è un mood, è un mood che la gente ama per ripartire. Il rosa è un colore che ci dà speranza e che ci fa sentire bene. La ricerca dei materiali è sempre fondamentale per noi, sia a livello di metallo, di colori di metallo che di colori di pietre. I colori di pietre, noi siamo specializzati nelle pietre dure, le pietre semipreziose e con tutti i colori, sia con la linea Bronze Allure che è conosciuta in tanti punti vendita in Italia, sia per le altre linee. Quest'anno con la tendenza anche dell'oro giallo abbiamo oltre alla linea in rosa di Bronze Allure abbiamo anche la linea di Etrusca, Etrusca gioielli in oro giallo, il nostro unico oro giallo di 18 carati, una placatura bellissima e anche una collezione in argento un po' più aggressive, un po' più rock chiamata Albert M. I materiali per noi risultano sempre fondamentali, noi abbiamo un reparto ricerca e sviluppo e di design molto importante perché pensiamo che bisogna essere sempre aggiornati, ancora di più in questo momento perché diciamo avere un oggetto addosso dà più serenità secondo noi.